Ci siamo? Buongiorno! Buongiornissimo! E dai, entra entra! Oh ma da quanto tempo non ti vedono i ragazzi sul canale? Oh boia da poco! Ma questo è quello che abbiamo ordinato su Amazon, te l'ha dato da Piero ieri? Me l'ha dato da Piero ieri, si è caricata questa notte Questa ci serve per stasera ragazzi, ci serve, sapete perché? Taglia vuoi spiegare tu cosa stiamo per andare a fare? Stasera ci divertiamo, questa sera ci andiamo a trovare una caletta Ci prenderemo il nostro posticino, monteremo la tenda e saremo lì Eh ma non hai detto la cosa fondamentale? Come ci andremo sulla caletta? Ci andremo col SUV Con lo stand up paddle Sarà molto divertente, io non sono mai andato sul SUV Eh infatti perciò ci divertiremo, ora te lo dico io perché ci divertiremo Perciò ci divertiremo moltissimo Perché tu non ci sei andato Perfetto Ciao, dobbiamo praticamente fittare i SAP Ok allora andiamo lì Va bene grazie mille Quanto viene? Allora 23 euro Tutto compreso È tutto compreso Ci sta la pagaia Ok E giubbotto Qualora lungoletta Bella storia Ok Ok ci siamo? Grandi amici Dove andiamo taglia? Stiamo andando alla seconda Alla seconda Alla seconda Gentilmente aiutati da mio padre Oh no? Che dici? Come sempre Il barone è sempre presente Ragazzi anche quando non lo vedete nei video C'è sempre C'è qualcosa fa sempre Abbiamo deciso di scendere verso le 5 e mezza Un ottimo orario Un ottimo orario Perché comunque le persone poi in spiaggia si incominciano ad andare Siamo pure più tranquilli con i SAP Con i SAP Attenzione alla pronuncia ragazzi Attenzione alla pronuncia perché si pronuncia SAP Vabbè questo è spettacolo Il limuno Il limuno è una cosiera amalfitana Adesso stiamo andando io e Taglia E poi alle 8 ci raggiungeranno anche Alberto e Piero Eccoci qua Per chi è? Qua ci dovrebbe essere proprio l'ultimo parcheggio a disposizione giusto? Che è questo di qua Poi noi ce la dobbiamo fare a piedi fino a giù Grazie per il passaggio Grazie mille Lo spero Ah qua ci sono applausi Grazie Grazie mille Grazie Ancora grazie Sì Chissà se è rumo per noi o per il matrimonio penso Dobbiamo capire qual è la spiaggia libera Sì ah questa è la spiaggietta libera Vieni vieni Ok Sì ragazzi noi non vi abbiamo fatto vedere niente Ma voglio solo farvi capire che il sole è completamente quasi andato Ok mettila come l'ho messa io Sempre di frontale Prima di partire eh Ti devi mettere sempre la caviglia Te la puoi mettere in due posizioni O subito sotto al ginocchio Oppure sulla caviglia Più dentro possibile Dai ancora Ok Abbierebbe al campo fuori vai 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 taglia vai Grande taglia Grande Arrivo Ragazzi taglia se la deve cavare un attimo da solo perché è la prima volta che ci va eh Quindi io ho dovuto dare un attimo una mano Ok Ci siamo Una taglia si è già alzata in piedi grande Dobbiamo anche muoverci perché Ci abbiamo ancora poco solo a disposizione Ragazzi super uno spettacolo uno spettacolo Dobbiamo ovviamente ringraziare Lia di Wave Salerno che ce l'ha fatto scoprire Ragazzi guardate qua Che costita Forza taglia che ci spinghi anche il vento e le onde Pertone Scoprire Scoprire Devece Scoprire 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 ingressi dove lo mettiamo? vado a mare? direi che il campo base ragazzi è più che pronto Piero e Alberto stanno nel pullman quindi stanno per arrivare noi nel frattempo stiamo montando le canettine perché questo calasole così un po' ce lo faremo abbiamo portato davvero di tutto sia a livello di micro jig sia a livello di testine piombate gommine darter sciaddini di varie colorazioni varie misure ragazzi non sto qui a far vedere tutta la roba che abbiamo portato di pesca adesso inneschiamo direttamente e partiamo che dici da? forza partiamo subito a bomba oh ce l'hai? che cos'è? wow bellissima una mini perchia una mini perchia no sciarranino super prima cattura per taglia un sciarranino no ti ha fregato la coda però ti ha fregata la codina da darting però è carinissimo dai guarda quella macchia è vero si lo sciarrano è veramente è troppo bello 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 davvero e dai dai subito il rilascio partito stai un altro pesce stai andando alla grande con la gommina la gommina questo d'arte è troppo bello e vai 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 recuperalo bene adesso non è un altro sciarrano sembra o uno scorpano vediamo scorpanetto si scorpanetto wow ma te hai capito domani con le gommine spettacolo ci divertiamo un sacco sicuro stai sempre attento con lo scorpano mi raccomando super scospanetto vai taglia vai taglia ti ho fatto subito divertire con la canettina leggera dici la verità vai rilascialo vai grande c'è la gommina che ci ha dato la decathlon veramente bella e considerate che adesso metà coda è andata e continua ad essere catturata si continua ad essere catturante perché in realtà è questo proprio il movimento appurati i primi lanci chiamiamo i ragazzi cerchiamo di capire effettivamente dove stanno forza sono praticamente le undici e mezza e questa l'ora secondo voi di venire giù allo sgarruppo ho sbagliato la fermata spazi un secondo e hanno lungato l'unora eccoli qua di giorno non è così di giorno non è così vero eee di corsa addirittura come è andata Alberto male l'ha discesa ti vedo abbastanza sudato si cena finalmente io devo un bel paio di nozze devo una bella merenda mmm ah il panino che abbiamo fatto stamattina adesso del mercato Pierone già sta mangiando ma dolce sta mangiando qui questo panino cafune ho anche detto panino napoletano mentre Berto ah pasta fredda ehi e chi ti ferma a te e vai vai ragazzi scegliamo un orario per svegarci domani che dite 4 e mezza qua 9 P 4 e mezza abbiamo pesca subito 4 e mezza 4 e mezza 4 e mezza 4 e mezza allora c'era taglia c'era eh sì è una terza volta c'era che tocca che la gommina è mangiata taglia eh vai a rilancia secondo me è la serata tua fra con le gommine sei partito con uno sciarrano poi lo scorfano sicuro sicuro è la serata tua 3 ore che ti stiamo toccando brava 3 ore ma ci caschi pure facile proprio brava facilissimo ci caschi via forza chiudi sta canna andiamo a dormire a dormire forza voglio sennò domani non ci svegliamo più è stato un piacere buonanotte 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 amici ma che svegliatini ma ci vogliamo muore per andare a pescare ragazzi andiamo a fare colazione vieni Berto vieni buongiorno buongiorno scusate si può avere un cornetto un cappuccino grazie una colazione cortesemente senza glutine per me grazie ma dove dobbiamo a posto grazie maestro no niente non ho detto manco la parola oh buongiorno vieno hai dormito un'ora due oh ma non si apre sto coso qua buongiorno non si apre vai giù mi resisti non si apre non si apre fatto giorno quindi adesso smontiamo tutte le tende perché tra poco qui cominceranno a venire le persone ci andiamo a mettere sulla caletta che vi ho fatto vedere ieri appena siamo arrivati qua sulla destra che è molto più diciamo libera facciamo un solo campo base giusto mettiamo una sola tenda e poi iniziamo a pescare dai sap altra caletta che spettacolo iniziamo a darting perché comunque qua il fondale è tutto quanto roccioso quindi ce ne andiamo per un'idea poi magari ci spostiamo un po' più lontano proviamo pure con i microgip cos'è occhio vediamo una perchia questa è una perchia oh ma guarda che cacchio di gommone che si è mangiato effettivamente è più grande di lei vuoi vedere hai visto che è carino mezza distrutta qua e guarda qua che morso l'ho visto magari una saraghi possono essere saraghi sono tutti ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho bello che cos'è sciarrano si sciarrano grande alberto eccolo qua ragazzi sciarranotto stavano distruggendo tutte le gommine da darting con la coda più lunga appena ho messo quella più piccola ma il fatto è che profondissimo oh una mangiata si si e sperando che non ci ha non ci ha distrutto la gommina ci piglia l'altra ecco la mangiata la mangiata ce l'ho ce l'ho ce l'ho oh bellissimo uno scolfo rosso bello è che sto pescando con la canettina con azione 0,5 5 grammi quindi a light rock è proprio il massimo lignone visto che colori spettacolo veramente allora qua siamo alla spiaggia di Erchie e adesso vogliamo andare praticamente dove c'è quella murata questa murata qua di fronte eccolo sciarranone spettacolo bello si guarda qua ho mangiato proprio bene vai ci riproviamo nel primo popoligio con un bel po' di vento quindi non è che ci potremo spostare più di tanto però abbiamo accompagnato Alberto che se ne è andato a prendere il pullman i fondali qua sotto comunque sono rocciosi quindi a light rock fishing sempre con la gommina da darting una cosina potrebbe uscire adesso viene pure taglia chi le taglia usa questi qua che comunque sono dartere però ne abbiamo in abbondanza di quelli là che abbiamo prima ne abbiamo pochi davvero mi hai dato un pesciotto che è eh oh ce l'hai taglia vai combattilo combattilo un sarago si incredibile taglia faccelo vedere questo sargo ah un sarghito che ha comito la codina eh vai che parte è andato ciao bello ragazzi è taglia ci abbiamo provato anche nel pomeriggio ma il vento è troppo forte penso che durante tutta la giornata abbiamo rotto quante gommine tante abbiamo spezzato le cote di quante delle gommine da darting sono state apprezzate sono state apprezzate ho capito ma costano esatto questo non è apprezzato queste qui sono le gommine che se ne sono andate tutte quelle della decathlon praticamente che sono veramente ottime che comunque hanno delle colorazioni pure abbastanza naturali veramente ben fatte però purtroppo come potete vedere le godine sono andate come stai sono stanco ma allo stesso tempo felice perché abbiamo passato una bella nottata una bella mattinata e ci siamo divertiti oi siamo di ritorno? non è così ma noi andiamo qua allora Piero è bello pesante io vorrei andare solo se non mi posso mettere una cosa avanti e allora ti metti le canne vai dai Uzzino vai ciao belli alla prossima ciao 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 a tutti